Da Cesena torniamo a Rimini con un cantante che si chiama Andrea Casabianca. Anche lui lo conosco da qualche anno, ve l'ho visto in qualche altro festival, ha fatto diverse manifestazioni. Una delle più importanti? Ma in generale ce ne sono diverse. Una delle più importanti forse è l'Accademia di Sanremo. L'Accademia di Sanremo comunque è l'unica concorso che permette di andare a Sanremo giovani. Perché anche Castro Caro, ormai il vincitore, non ci va più a Sanremo. Quindi l'Accademia della canzone ogni anno mandano tre cantanti a Sanremo giovani. Quindi ormai i cantanti che vogliono arrivare si iscrivono quasi tutti a questa manifestazione. Solo che siete tantissimi, no? Eh sì, eh sì. Però ci sono anche altre manifestazioni, tipo il Savarino Festival, che devo dire che è una delle più importanti. Oppure Rimini Live Festival, adesso di recente ho fatto Cattolica Live Festival, quindi ce ne sono state diverse, sì. Comunque l'augurio per tutti, deve ricordarsi, comunque l'augurio per questi cantanti che trovino un disco grafico che li possa far incidere e promuovere soprattutto. Allora Andrea Casabianca ci farà ascoltare una canzone di Claudio Baglioni che si intitola Avrai. Grazie. Grazie, buonasera. 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 Grazie. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.